Due mesi dalla cattura di Matteo Messina Denaro, la TGR Sicilia ricostruisce in un podcast il momento della cattura. Un racconto di quella mattina, minuto per minuto, in quattro puntate. Abbiamo studiato le carte dell'inchiesta, ascoltato i protagonisti, alcuni dei quali non avevano mai parlato. Le prime due online da oggi, le ultime due la prossima settimana, il 23 marzo. Si potranno ascoltare dal sito della TGR Sicilia o tramite l'app RaiPlay Sound. Un racconto costruito come un film, ma usando solo le voci, gli effetti e la musica.